Allora, oggi è domenica, verifichiamo da un sito interne la data, Corriere della Sera. Ecco, domenica 15 gennaio 2017, verifichiamo la potenza del cicalino che sta girando mediante troppo parte in acustico, dopo un minuto dell'apertura, verifichiamo la potenza con un fonometro scaricato con un'applicazione da internet, eccoci qua, siamo a circa 2 metri di distanza, verifichiamo, verifichiamo la potenza del ditto, che è avvolta il 100 decibel, 105 ha raggiunto come massimo, a circa 2 metri di distanza, non sarà più di tanto attendibile questo fonometro, ma comunque è molto indicativo, in questa data la potenza registrata è di oltre 100 decibel di potenza, di picco chiaramente da un cicalino. Grazie a tutti.